Kai Tempest ha una padronanza di linguaggio, una capacità espressiva incredibile, ho difficoltà a capirla quando canta, ho bisogno proprio di leggere i testi, è un'artista di Londra, versatilissima, ha vinto anche un sacco di premi, drammaturga, poetessa, scrittrice e rapper, ho avuto la fortuna anche di vederla dal vivo. Ci sono rimasta un po' male perché uno di quegli artisti che anzi ha chiesto proprio prima di cominciare il concerto ha detto io parlerò adesso e poi comincerò a cantare e non mi fermerò più, quindi non c'è stata più interazione con il pubblico, ho scritto su di lei quindi conoscendo anche la sua personalità me lo potevo anche aspettare. No, è una persona molto riservata, molto introversa, quindi va anche rispettato in quel senso.